Ancora nessuna novità sulle ricerche di Simone Carpintieri, il 33enne disperso da lunedì sera dopo essere uscito in mare con la sua imbarcazione per pescare tonni. Nonostante tre giorni di serrata attività da parte di carabiniere e guardia costiera che hanno scandagliato gli specchi d'acqua dell'arcipelago eoliano anche con l'ausilio di un elicottero, del giovane milazzese residente a Vulcano, nessuna notizia. Anche amici e conoscenti, come emerge dal suo profilo Facebook, lo stanno cercando senza sosta. Hanno scandagliato anche anfratti e grotte accessibili solo via mare, raggiungendo persino il Golfo di Patti e Capocalavà. Tanti messaggi d'affetto per Simone, c'è chi non perde la speranza e spera di riabbracciarlo. Sono ore d'angoscia per i familiari, ore di grande angoscia. La barca del giovane è stata trovata alla deriva a un miglio circa dalla località Gelsu, a sud di Vulcano. Proprio qui si sono concentrate le prime ricerche, tra l'isola e Milazzo. Speranza e preghiera continuano ad albergare nel cuore di chi a Simone vuole bene, ma l'angoscia è chiaramente incontrollabile. Le ricerche, intanto, proseguono senza sosta.